Ciao Marcello, ciao amici Juventinazzi di Topland, Juve Inter 1-0, che dire, direi una bellissima vittoria, è sempre bello vincere contro i prescritti, poi con un gol così di quadradone è stato fantastico, è stato veramente fantastico, ho urlato a squarciagolo perché ha fatto un grandissimo gol e sono veramente contentissimo. Direi una Juve stasera non bellissima, però siamo stati tutti ordinati, Chiellini fantastico, non ha sbagliato nulla, poi con la sua grinta è sempre bello vederlo così. Dispiace per Dybala, che ha beccato quella traversa e anche Pjanic, altrimenti la partita sarebbe anche finita 2-3-0. E niente, anche Higuain, devo dire, ha fatto una grande partita, anche se non ha riuscito a segnare, forse avrebbe meritato anche il gol, Higuain, perché si è dato parecchio da fare, ha rubato diversi palloni, peccato. Niente, adesso testa al crotone, perché dobbiamo portare a casa un'altra bella vittoria. Vi saluto e fino alla fine, forza Juve!